Il progetto Lecce sia pure con un forte contenimento dei costi, come annunciato dal presidente Savino Tesoro, è ambizioso ma anche difficile da sposare. Le selezioni e i colloqui aperti dalla famiglia Tesoro mirano ad un obiettivo, non sbagliare la scelta del tecnico il quale avrà il compito di alimentare da subito speranze e promozione. Si parla di speranze. Nella passata stagione alla vigilia del campionato non si facevano proclami, ma c'era la convinzione fortissima che la squadra giallorossa non avrebbe avuto rivali. La stagione è andata in maniera diversa da un certo punto in poi. Due cambi in panchina e tre tecnici non sono bastati a centrare l'obiettivo. Persa l'occasione di tornare in B con una squadra che avrebbe avuto già la sua spina dorsale e tanta esperienza. Benassi, Forza Esposito, Martinez, Giacomazzi, Boiacino, per non dimenticare Cevanton e forse Pia e Geda. Il mancato approdo al porto della Serie B e rivoluzione ai piani, i progetti. Non si riparte a vele spiegate, ma spinti dal vento di una programmazione giudiziosa dopo una stagione in cui tecniche ed esperienza sono state incenerite dall'entusiasmo, dalla forza di volontà e dalla tenuta atletica, clamorosamente mancate a Lecce. I Tesoro si stanno confrontando con alcuni papabili allenatori, Moriero, Giannini, Dionigi, Forza e Tesser e Stefano Vecchi. Da una parte un progetto che non sarà sontuoso dall'altra, dei tecnici che dovranno raccogliere la sfida lanciata dai Tesoro e sopportare le pressioni di una piazza che non sono quelle di Bolzano, Novara, Crotone o Grosseto. Cercheremo, ho detto, di fare una squadra, di allestire una squadra competitiva di categorie più che altro. Competitiva non più, ho detto, con i grandi nomi, con la grande tecnica. La margherita che il Lecce sta sfogliando è il segnale che la società leccese non ha scelto una via precisa e il problema non è solo ricercare l'uomo giusto ma anche ricevere un sì dagli allenatori contattati e capire quanto può essere elastico rispetto alle premesse sin cui fatte il campo di manovra di Antonio Tesoro, responsabile dell'area tecnica e della gestione dei soldi del padre presidente. Il primo ad essere condizionato sarà proprio Antonio Tesoro, costretto a fare bene senza grandi firme. Grazie a tutti.